Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza di rimozione del divieto in via cautelativa di balneazione che interessava da 24 ore il tratto di mare prospicente via Galilei e quello 100 metri a sud dal porto turistico ed è stata notificata ai gestori di 14 stabilimenti balneari. Le analisi microbiologiche condotte dall'Arta hanno dimostrato che i parametri erano al di sotto dei limiti di legge, pertanto con piena conformità. Il provvedimento era stato emesso in conseguenza di uno scarico anomalo nelle condotte fognanti che affluiscono al depuratore tra la sera e la notte del 18 agosto e quindi nelle prime ore di giovedì. Il campionatore posto all'ingresso dell'impianto aveva immediatamente segnalato l'anomalia sul processo di depurazione. In particolare sono rientrati nei parametri di legge i valori di Escherichia coli 175 su un valore massimo di 500 mpm per 100 millilitri ed enterococchi intestinali 31 su un valore massimo di 200 mpm su 100 millilitri che ieri avevano superato i limiti nelle acque marine antistanti la foce del fiume Pescara. Tali dati sono stati poi trasmessi al comune e hanno permesso al sindaco di ripristinare la balneabilità del tratto di mare. Rientriamo pertanto nella totalità dei criteri che ci sono valsi la bandiera blu, ha dichiarato il primo cittadino Carlo Masci. Ha ulteriore dimostrazione che il lavoro fatto per la salubrità del mare è stato capillare e radicato e persino un evento eccezionale è stato assorbito in pochissimo tempo. Resta il fatto che l'accaduto dimostra che la sensibilità ambientale è sì diffusa ma evidentemente non abbastanza per impedire che si verifichino episodi di inquinamento che denotano invece spregiudicatezza, irresponsabilità e disinteresse per il bene comune. Grazie a tutti.